Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi voglio rispondere a Marius che mi chiede un video sull'uso dell'anca e del bacino nella corsa veloce, nello sprint. Oggi quindi andiamo a analizzare come usiamo il bacino e l'anca nello sprint. Giustamente ho fatto un video sui piedi, uno sulle gambe, un video su come usare le braccia, un altro video su come usare le spalle e oggi appunto finiamo la serie di questi video parlando appunto dell'anca e del bacino. Come dico, in tanti video, come ho già detto tre volte, se hai visto in video e l'avrai sentito dire più volte, l'anca, questa parte qui, questa parte del corpo, l'anca, i glutei e il bacino svolgono una parte veramente straimportante nella corsa, nella corsa in generale, ma soprattutto nella corsa veloce e nello sprint se vuoi correre veloce. Bisogna imparare a usare bene il bacino e oltre che imparare ad usarlo, bisogna anche allenarlo. Il bacino deve essere, qui la struttura del bacino deve essere forte, deve essere agile e deve essere anche mobile, quindi devi essere in grado di usarlo e di muoverlo, perché solo così puoi utilizzare il bacino e sfruttare la forza e tutto il potenziale che puoi ottenere muovendo bene, correndo bene di bacino. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire innanzitutto che il bacino quando corri, è un consiglio che ti do, quando corri, quando fai le ripetute o comunque sempre, anche in allenamento, pensa al bacino, il tuo focus, come dico sempre, ogni prova utilizzala per migliorare nella tecnica, anche quando sei in allenamento. Quindi una prova pensa come metti le mani, un'altra prova pensa come sono i gomiti, poi anche sulle spalle eccetera e includi anche delle prove in cui ti focalizzi sul bacino, specialmente se tendi a correre basso, a correre così. Per correre veloce bisogna correre alti, se corri alto sei più leggero, sei più effettivo e corri più veloce, e utilizzi meno energia, quindi sei più efficace. È come una spirale, no? È più, 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 più corri meglio, più ha i tuoi benefici, no? Più sei effettivo, più sei veloce, meno consumi, più sei, no? È più migliori poi quelle che sono le tue prestazioni. La tecnica è veramente importantissima perché se corri bene, se corri bene invece puoi sfruttare tutte le tue potenzialità e tutte le tue forze e tutte le tue energie. Quindi è chiaro che bisogna allenarsi, no? Per migliorare poi quella velocità, la forza, l'istenza, la capacità, l'attaccia, eccetera. Ma la tecnica è, come devi vederla, come un modo per poter imparare e utilizzare le forze e energie che riesci a creare, no? Diciamo così, in allenamento, no? È inutile che c'è un bel bocchetto di energie, no? La triforza, velocità, eccetera, quando non hai gli strumenti per utilizzarli. No? La tecnica è una sorta di strumento per utilizzare, no? In vari magazzini che hai riempito col tuo allenamento. Se tu devi scaricare un camion di sabbia, non c'hai il badile, diciamo, ecco, diciamo, il badile come la tecnica non va in nessuna parte. Quindi, io lo dico sempre, l'ho già detto in altri video, cerca di investire almeno il 10% del tempo che ti alleni, che investi nell'elemento, nella tecnica di corsa, eh? Che è solo una questione più tecnica, no? Come dico sempre. E quindi, allora, cominciamo a vedere come bisogna tenere il bacino. Allora, il bacino bisogna correre alti, quindi per correre alti, no? Il bacino deve essere, deve essere in avanti. Devi portare il bacino in avanti. Deve essere, quando corri, deve essere, il bacino deve essere sotto le spalle, anche se le spalle devono essere forse leggermente più avanti del bacino, o comunque, come idea, deve avere il bacino sotto le spalle. No? E correre in questo modo, no? Come vedi? Come vedi, io sono alto, adesso non è che posso correre, però anzi, facciamo una cosa, ti faccio vedere un ralenti di un mio 30 metri fly. Ok, hai visto? Eh? Quindi, quando, quando, quando corri, no? Devi fare, no? Devi alzare bene le ginocchia e stare già bene, e già qua attacchi col bacino, eh? Quando sei qui attacchi, già c'è il bacino che attacca. C'è il bacino che attacca, alzi bene le ginocchia, perché se attacchi bene il bacino e spingi bene col piede sotto, la tua gamba è tesa, è chiaro che il bacino sale, eh? Quando il bacino sale, se ve lo alto, tac, vai giù e riesci a spingere bene, riesci a spingere alto. Se riesci a spingere bene col bacino, hai questa sensazione di correre veloce, ma ti sembra, ti sembra di volare, ti sembra proprio di correre leggero, ed è questo che devi raggiungere. Se vuoi correre veloce, devi correre del zero, non devi neanche sentire, ce li dire, ma non sto, non devi avere quella sensazione e vedi, ma sto correndo o sto correndo, no? Deve essere proprio veloce, veloce, alto, no? Leggero, pa 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 pa, così, no? Diverse se sei, se sei tutto intrito, no? Tutto teso, no? Che sei, cioè, il culo basso, no? Tutto l'indietro, e il bacino l'indietro, no? Magari spari davanti e corre così tutto teso, che ti sembra di dire, ma no, come sto andando, no? Sto spremendo un sacco di invece, no? Stai fermo, così, eh? Però se ti accorgi che corri così, lascia stare diventare, anche quando sei in allenamento, cerca di correre, anche gli allunghi, tutte le prove, cerca di correre il più rilassato possibile, eh? Per rilassatezza, deve essere rilassato, se corri rilassato, corri veloce, per correre veloce bisogna correre rilassato. Comunque, torniamo al bacino, eh? Il bacino deve essere alto, eh? Devi spingere bene, quindi, il tuo piede devi arrivare, spingi bene con piede, la gambe tesa, il bacino è così in avanti, eh? E corri, non è facendo, eh? Così. La cosa da fare, il bisogno di lavorare col bacino, eh? Chiaro, deve essere in avanti, eh? Deve essere, devi spingere bene, quindi di qua deve essere, comunque, forze per, per, per aumentare la forza del bacino, ti consiglio di lavorare, cioè, sulla, sull'iofso, ho stato di fare, fare, diciamo, un video dedicato, anzi, te lo metto qua sotto, e il link, e, eh, però lavorare soprattutto i trail, il trail non è un, è uno strumento, eh, importantissimo, eh, sia per migliorare, eh, insomma, la forza, per quelle andate, ma è, è allenante moltissimo per il bacino, perché tu devi tirare il peso il bacino, quindi devi, devi andare comunque avanti il bacino, e usi molto il bacino, e rinforzi molto, quindi il trail, accusa, anzi, abusa dei trail, e, comunque, eh, chiuso parentesi, tornando al bacino, deve essere avanti, eh? Deve essere alto, ma devi, 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 eh, lavorarci, quindi, no, devi, 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 deve morarsi a destra e a sinistra, no? Quando, 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 quando sei in questa posizione, quando corri e stai alzando il ginocchio, no? Chiara che stai alzando il ginocchio, un bacino avanti, però, quello che devi fare è lavorare di bacino, eh, lavorare di perché stagione, tac, tac, eh, spostare, battere, eh, no, con l'anca, andare a destra, no, a sinistra, destra e sinistra, eh, quando attacco così, è attacco di sinistra, poi, eh, quando attacco così, pa, quindi quando tu alzi, adesso, sei in altra fase così, la differenza è, tu corri, corri in un mare, alzi il bacino, e fai una cosa così, eh? Altro, ecco, quando sei qui, no? Il tuo bacino, che tac, va, ok? Così, no? Da qui, tac, se ne va di là, dai proprio, dai proprio una spinta, e se li stai a fare questo, tac, no? Dopo spingi bene, quindi, praticamente, devi, devi pensare che le gambe, c'è il piedi sotto che spingi, c'è la gamba, come le leve, le gambe sono delle leve, devi pensare al tuo corpo anche come delle leve, no? Devi, devi pensare di usare le tue arti, il tuo busto, il tuo torso, come delle leve, per cercare di portare in avanti l'energia, di usarle bene, quindi, devi pensare al, se questa è la gamba, questo è il bacino, la mia mano è il bacino, no? Devi portare, se tu, se tu porti in avanti il bacino così, praticamente, riesci a spingere bene, no? È chiaro, se sono così, spingi, spingi, ho meno forza, no? Ma se io, se io, se io il bacino, lo, lo, lo butto in là, no? Come la ballerina, ma, no, 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 è un po', un po', devi portarlo in una corsa, no? 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 Faccio così, tac, così, tac, no? È chiaro che, che spingo, spingo ancora di più, ma io spingo col piede, con la corsa, con le braccia, con le spalle e col bacino. uno, più uno, più uno, più uno, alla fine ci deve essere una tale carica sul piede che tu, bam, no? Ogni corpo, bam, no? Devi, devi spingere e buttare tutte le energie che hai. E quello di lavorare col bacino, te lo consiglio di, eh, di fare molte, eh, eh, della playlist che ho fatto, un 40 da vista, se la conosci, però, eh, anche quella te la metto qua sotto, eh, monteggessi, impari a usare il bacino, eh? Però, una cosa che devi fare, anche quando fai, prima di fare, di fare, di fare, quando stai scaldando, fai un po' di mobilità. C'è anche di fare mobilità per il bacino, no? E cerca di avere sotto controllo il bacino, di fare queste cose, no? Sapere che sia mobile, no? E che tu riesca anche a controllarlo, anche solo a fare questo, no? Molto a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, così, eh? Anche solo a fare questo, questo esercizio, no? Ti impari, impari a muovere il bacino, eh? Unisci bene i piedi, eh? E ritieni così, tac, 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 che è quello poi che devi fare in corso, no? Quando sei in corso, quando corri, c'è la mano avanti, c'è la mano a destra avanti, il bacino a sinistro, e la parte sinistra del bacino è avanti, no? E la mano a sinistra è dietro, così. E poi è questo, tac, 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 e la gamma sondra e sottotesa che spinge. Ok? Quindi lavorare di bacino diventa fondamentale. Se riesci a lavorare bene col bacino, implementi ancora di più la spinta, e poi avere dei progressi ancora maggiori e costitivi, subito, subito, no? Senza aspettare che devi per forza migliorare la tua forza, la tua velocità, la tua resistenza, eccetera, no? Quindi se tu hai qualche pecca di tecnica, devi vederla come priorità. La priorità che devi avere è di correre bene, di correre in avere una buona biodinamica. Quello è fondamentale, eh? Poi, chiaro che viene veramente cieca, però se tu hai dei difetti, fai degli errori quando corri, è chiaro che hai delle potenzialità, no? Vuol dire che puoi subito migliorare, no? E avere dei progressi. Quindi la tua priorità deve essere quella di correre nel modo migliore e tecnicamente migliore possibile. E se ti accorgi che fai qualche errore, no? Soprattutto se ti accorgi che corri con il bacino basso, devi far qualcosa, eh? Devi migliorare. Perché, ripeto se tu, cos'è perché è importante correre con il bacino alto? Se tu, se tu corri col bacino alto al basso, no? Il bacino è veramente fondamentale. Se tu corri col bacino alto, poi, chiaro, no? Riesce a spingere con il piede, la gamba può essere dritta. Da qui arriviamo delle energie sopra, quella va bene di spalle, di braccia, la schiena bella dritta e la testa è fissa, è perfetta. E andiamo molto bene. Se cominciamo a tenere il bacino indietro, no? Sempre, il bacino indietro, se io corro così, adesso, eh? L'implemento così. Se io corro così, no? È chiaro che, è chiaro che... Se corro così, è chiaro che sto corro basso. Il mio piede a terra sicuramente davanti alla mia testa, come abbiamo detto per correre veloce, il piede deve debattere sotto la testa, eh? Così, utilizzo la forza di gravità e vado avanti. Se il piede a terra davanti, vado indietro e freno. Quindi ho bisogno di molte, quando corro ho bisogno di molte più energie per andare avanti. Quindi, eh... No, stiamo bassi, no? Il mio piede a salire e già freno. Faccio di mettere il mio piede a storto. La gamba è piegata e quindi ad ogni passo, invece di spingere, ammortizzo. No? Quindi le mie energie se ne vanno nel terreno. Se ne disperdo, praticamente. E spalle avanti e, insomma, non riesco a correre. È un casino. Quindi, se vuoi correre veloce, impara ad usare i piedi, usare le ginocchia, usare bene spalle e braccia, ma soprattutto anche a usare bene il bacino e stare bello alto. Ok? Va bene. Oggi direi che ho parlato tanto e abbastanza. Spero di averti dato qualche consiglio utile. Vi raccomando, fai attenzione alla tecnica, a queste cose, e fai tanti esercizi di tecnica e pensa bene al vaccino. Se hai qualche domanda da farmi, io vi ringrazio con qualsiasi email che mi mandate e mi accetta. Io rispondo assolutamente a tutti. E... Ti è piaciuto il video? Clicca mi piace. O se vuoi iscriverti al mio canale, e io sono soltanto contento. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!